Architetto Antonio Di Stefano, la città riabbraccia il mammut, ma soprattutto a breve riabbraccerà il forte spagnolo. Sì, il primo lotto dei lavori è completo, quindi fronte d'ingresso a breve molto probabilmente verrà riallestito come sede museale e quindi i cittadini potranno finalmente rientrare all'interno di questa magnifica struttura, simbolo dell'Aquila. Un passo importante, lungo, impegnativo, ci sono stati dei problemi? Sì, diciamo che è stato molto impegnativo perché le tecniche di restauro e di consolidamento e miglioramento sismico sono state veramente molto importanti, insomma da non dormirci la notte, però poi si è trovata la quadra e siamo riusciti a risolvere nel migliore dei modi questa situazione e rimettere finalmente in sicurezza il castello. Una data per la fine dei lavori definitiva, più o meno c'è in maniera ipotetica? Per completare completamente i lavori ci vorranno almeno un paio di anni. Quindi diciamo 2023? Sì, grossomodo sì, i fondi a disposizione ci sono, quindi ci sono, devono arrivare, però sono stati inseriti nella programmazione CIPES ed è stata approvata, per cui insomma ci sarà continuità lavorativa e questo ci permetterà di portare avanti la cosa. Architetto, grazie, buon lavoro, intanto ci godiamo questa magnifica vista del mammut. Grazie a voi, buona giornata.